quindi grande Milan ieri sera giusto? Io ho visto un Paris Saint Germain che non è una squadra di calcio organizzata lì ognuno va per conto suo ok accettare l'uno contro uno ma dipende anche come accetti l'uno contro uno come ti organizzi per accettare l'uno contro uno un centrocampo e non faceva minimamente da filtro per la difesa alleao leao invitato a nozze con tutti quegli spazi aperti Skriniar lo stesso Skriniar eh umiliato sullo scatto dalleao ragazzi ma Skriniar è un grandissimo marcatore in una difesa quattro con baricentro basso se Skriniar lo esponi a campo aperto dove può sfruttare molto meno il posizionamento fa le figure che ha fatto ieri sera per quello come braccetto è molto meglio Pavard di Skriniar anche perché perché è molto meglio Pavard perché è più veloce e perché non deve toccare tre volte la palla per ripulirla Skriniar per addomesticare una palla fa tre tocchi Pavard la gioca subito fa in modo di capito costruire le azioni in maniera molto ma molto più fluida Skriniar per addomesticare un pallone lo tocca tre tre volte poi lo metti in una difesa marcatore ripeto a quattro baricentro basso lo metti sull'attaccante forte Skriniar non è l'ultimo dei difensori ma ieri è stato esposto a delle bruttissime figure anche perché tiene in gioco tiene in gioco il francese sul gol del Milan sul gol di Leao e si fa mangiare in testa la pappa da Giroud sul gol di testa di cosa stai ragionando mi tengo Pavard ad oggi ma alla grande soprattutto come braccetto ma tutta la vita Pavard ma tutta la vita Pavard ragazzi la squadra dei giocatori che vanno per i fatti loro poi è normale concedi tutti quegli spazi a Leao loro giovano tutto su Leao e ti fanno male comunque sembra che abbia sembra che comunque dopo la vittoria di ieri loro siano già diventati i protagonisti della Champions lo vedremo io se fossi loro la analizzerei bene questa vittoria però a noi del Milan noi rispettiamo gli avversari ma non ci interessa cosa fanno giusto quindi sono fatti loro poi ora hanno preso Ibra e farà la badante a Pioli vedremo un attimino come si svolge la situazione ragazzi io subisse che vi devo dire una cosa ho molti dubbi su questo ragazzo ma sono anche il primo che quando vedo allenatori che lanciano i ragazzi giovani è contento attenzione sapete che Aslani è un mio pupillo da tanto tempo perché Aslani è un grande giocatore e sta migliorando tantissimo soprattutto nella cattiveria e né giocare sporco ma giocare sporco non vuol dire dare i calzotti dietro la nuca agli avversari vuol dire essere più cattivi essere più impattante nei contrasti e questo quello deve imparare Aslani se vuole giocare play per come la vedo io io per quel poco e ho visto Bissek ti devo dire la verità non ho avuto una grandissima impressione anche perché se te lo guardi bene non ha tantissimo scatto lui recupera molto con le leve lunghe nelle lunghe distanze perché è lì che da un po' meglio di sé io ho in testa la partita contro il Monza dove lui quel quarto d'ora Caprari lo soffre tantissimo quindi sono il primo a dire ok facciamolo giocare questo ragazzo però Inzaghi facciamo una cosa facciamolo giocare contro il Frosinone con tutto rispetto per il Frosinone io farei giocare De Vrij stasera mia impressione eh poi magari Bissek stasera gioca ed è risulta il migliore in campo però ecco a livello tattico non lo vedo ancora pronto nelle letture delle azioni cioè quel poco e l'ho visto è anche vero che non puoi giudicare un giocatore da qualche spezzone per l'amor di Dio però io ti sto esprimendo la mia sensazione da quel poco e l'ho visto non mi sembra pronto ancora mi sembra pronto ecco lo farei partire dal Frosinone sapito a Milano in casa lo farei partire da un Frosinone stasera lo lascerei tranquillo il ragazzo lo preparerei mentalmente per la partita di campionato e farei giocare De Vrij io io ti dico quello che farei anche sul controllo palla sull'uscita palla l'ho visto un po' impacciato però ripeto non si può giudicare un calciatore da qualche spezzone però ecco se se vuoi ti dica la mia io ancora non mi fido tanto di questo ragazzo quello ruolo quello è un ruolo particolare capito difesa tre braccetto ruolo particolare anche vero che eh nel ruolo di Ascelbi devi avere ancora più testa più mentalità braccetto se sbagli puoi recuperare se sbagli nel ruolo di Ascelbi sei fritto capito centrale però vediamo dai un attimino quindi eh San Lisburgo c'ha dei ragazzi che a me piacciono Pavlovich il difensore è impressionante ragazzi ho visto un difensore Pavlovich del duemila è devastante quel ragazzo è fortissimo spero che entri in orbita inter ci sono anche Rocco Simi ci ho detto hanno due tre giocatori l'israeliano Goku è fortissimo cioè hanno dei giocatori forti quindi loro vorranno vincere per noi una vittoria sarebbe una manna dal cielo vedi la gestione proprio delle forze no che dobbiamo fare in questo periodo e quindi stasera spero che l'Inter si faccia valere perché comunque non sarà una partita semplice occhio lo dico subito non sarà affatto una partita semplice io sarò in hotel stasera perché sono fuori per lavoro la guarderò in hotel sperando che tutto vada bene nel frattempo ragazzi cosa vi devo dire Ziliacus stamattina non si è sentito non vediamo se fa questa offerta a Zang perché è già la quarta volta e parla parla ma offerte non si sono mai viste doveva fare l'offerta dopo la finale di Champions non si è visto nulla ora ha raccolto 2 miliardi e mezzo ed è pronto a fare un'offerta ma basta aspettare vediamo se il biondo fa un'offerta ciao Inter